Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio vero e bentornati a una nuova puntata di Airsoft Vairon 4 Oggi dobbiamo cercare di fare l'invasione navale in Italia, quindi organizziamo le nostre truppe Le vorrei però schierare un po' meglio in realtà Inoltre mi piacerebbe aspettare questi 18 giorni per avere l'invasione un pochino più forti Perché qui comunque non possiamo toccare nulla ragazzi, assolutamente no Inoltre, inoltre, mi era stato suggerito da Abitante del Volte Che è un ragazzo, uno youtuber che tra l'altro vi consiglio di vedere Ha un canale molto interessante sulla storia, quindi racconta aneddoti storici, parla di armi Insomma, un canale molto interessante e mi ha suggerito di fare un template abbastanza particolare Mi ha suggerito di fare un full art che sicuramente non funziona Però potrei tirar fuori un template interessante Allora, iniziamo a lavorarci Vediamo un po' Forse con lui è il più economico che potrei fare Aspettate, Brigata Tank no, questa mi costa troppo Addestramento mi costa troppo, no, è lui E questa la chiamiamo per ora test Save E mettiamogli l'unicorno Ok E andiamo a dargli In realtà potrei fare medium tank con l'arte che sicuramente funziona di più Perché questo così siamo a 27 Guadagno tanta difesa e tanto soft attack L'idea potrebbe anche metterci magari un tank medio, ma quanti ne dovrei inserire di tank? 36, 38, 40 Eh, il problema è che non c'ho hardness È praticamente inutile questo tank medio, è bassissimo È davvero basso A meno che queste non diventano delle motorizzate Potrei fare motorizzate E se facessi questo, fermi tutti Eh, così magari Ok, forse così già c'ha più senso Eh, mobile Ok Eh, già così, però certo sempre 30% è No No, non mi conviene Non mi conviene fare questo Medium tank, 300 di motorizzate No, per fare questo template, ragazzi Sì, per fare questo template ho bisogno di Ancora ricercare un paio di cose Non lo posso ancora fare Andrei a distruggermi la run L'idea è di andare a ricercare Adesso non clicco perché sennò Loro, che sono comunque un po' più pesanti Rispetto a queste motorizzate Andare a prendere Il centaur potrebbe essere un'idea Iniziare a mettere qualche divisione di attilleria Con la divisione di attilleria Con il centaur E poi Loro E magari ci potremo mettere Qualche altra cosetta Un po' Spacey Ok Quindi dove sono alleate con noi Ecco abbiamo perso Abbiamo convoglio Ok Un giorno ci avremo anche dello spazio Finalmente in più Per le nostre industrie Andrei con lui E andiamo un attimo a vedere Le costruzioni Come stiamo messi Ok Ok Infatti ti dicevo Come mai è tutto Tutto a poco colorato E queste In realtà Le potrei anche Tirare giù Facciamogli finire Ok Perfetto E non ha senso Qua sette giorni Quattro giorni Perfetto Ci siamo Artiliera adesso Non abbiamo 6k Quindi potremmo anche fare Un piccolo refit Di tutte queste E renderle Ci abbiamo anche 361 Sì Facciamo refit Eh Questa ci costa Un po' di più Ci riservano 576 Quindi altri 300 Quanti ne facciamo Al giorno Facciamo questo Al giorno Ne produco Ah Questa è perfetta L'ending craft È perfetto Non credo Che abbiamo bisogno Di upgradeare Qua A questo punto Andiamo a lavorare Su Su di lui E facciamolo qua L'artilleria Facciamo l'Avenger Andiamo i Cromwell E facciamo l'Avenger E Quanti ne produco Io al giorno Di anti-tank Vediamo Uno al giorno No Non possiamo Fare il refit Completo Eh Però sicuramente L'invasione Può iniziare Nemmeno questa Infatti Non la potevo switchare Allora La mia invasione Può iniziare Quindi Cancelliamo Quest'ordine Giovanotto Tu vai Qui E dove scendiamo Potremo scendere A Messina Però poi Forse ci conviene Napoli Quanti mari Ci abbiamo Due mari Qui possiamo Scendere A Napoli E a questo punto Qui possiamo Scendere Volendo Anche in Sicilia Tipo a Palermo Ok In quanti giorni Facciamo questo In 84 giorni 35 giorni Eh ragazzi Gli anti-tank Parteci abbiamo un problema Qui Eh compriamone un po' di più Ok In parte ci abbiamo Anche lui Che me lo può vendere Uno Eh magari Mi conviene No Eh Ok ci abbiamo un po' di aerei Da schierare Ma va bene così Come stiamo messi In aria Qua in aria Stiamo messi benissimo Qua stiamo messi male Molto male Molto male Io non so Quanto Quanto riescono A reggere Queste truppe qua Onestamente Non lo so Ma l'idea È di reggere Qui Di reggere La Francia Far cadere Loro Far cadere Il Belgio E il E l'Olanda Questi ce li teniamo Perché mi potrebbero Far comodo Ok Ehm Allora Lei non è male Questa è bella Per la superiode Facciamola Come stiamo messi 27 giorni 35 Dobbiamo prendere Due mari In realtà Abbiamo il controllo Di tutte e due le parti Qui Sto perdendo Un po' di Perdendo Un po' di roba Non ho ricercato Torpedo Sì Facciamolo Abbiamo nuove Fabbriche Mettiamole subito In realtà In realtà Abbiamo vinto Noi a In mare Abbiamo vinto Chi ci rimane Il Giappone Quanto è grosso Il Giappone Andami vedere Un attimo Tanto metto La speed a 3 Ce n'è 364 Il Giappone È pericoloso Qualche Sottomarino Potrebbe essermi Utile Il destroyer Il destroyer Di riserva Ce l'ho Me l'ha dati Anche Gli Stati Uniti Me l'hanno dati Quindi Con loro ci siamo 1 2 3 4 5 6 7 8 Andate qui Allora abbiamo Delle militari Da assegnare Io andrei così Andrei così Ragazzi Con le militari In realtà Potremmo anche Tirare fuori Altri Tiriamo fuori 400 Qua E 400 Cas Poi facciamo Due divisioni Li mettiamo qui Magari ci aiutano Un po' A non essere Almeno rossi Perché comunque L'aria Non ce l'abbiamo Quindi Dovremmo anche Ricercare Magari Mettere Nelle nostre truppe Un po' Di anti-air Ragazzi Dovremmo anche Avere Un po' Più di punti Comando Che ce l'abbiamo Scherati qui Qui E qua Ok Ok Che so 200 Ma ho letto 2000 E allora mettiamo I castle li mettiamo Possiamo pure mettere tutti qua E vai Potrei anche mettere interception Interception che cavolo ho detto Facciamo così Intimole intercettare ma Ok ci siamo Ci siamo l'abbiamo di fatto diventare gialla Perfetto va bene Ok Qui comandiamo Siamo quasi pronti Mi serve Il Qual era Ce n'era uno che mi dava parecchi punti comandi in più Non mi ricordo se l'avevo già presa Oppure ancora no Intanto facciamo lui 58 giorni 60 lui 400 giorni Noi potremmo garantire No in questo momento no Medium tank Siamo messi come 167 giorni Per i tank pesanti Andiamo la priorità anche a loro Credo che ieri comunque ce li abbiamo Non sono Non sono difficili Qua ne produciamo una settimana Una settimana Ok questo potrebbe essere il nostro piano Ok questo potrebbe essere il nostro piano Dai naval bomber non mi riguarda in questo momento No adesso no Ma anzi qua stanno pure reggendo abbastanza bene Fatemi togliere la nebbia 72 Solo che poi dovremmo spostare questa roba In mare Fatemi prendere altri Altri gas Andiamo allora a continuare a produrre militari Ok Ok Voi sempre giù E giù Certo non ce ne abbiamo tantissime Ma Meglio di niente Ok E mettiamo sempre loro qui E vai Come siamo messi 81 82 83 84 Allora Tu Via Io direi di provare ragazzi Vediamo che succede va Proviamo a sbarcare E mettiamo qua Vai E questi 200 Sempre qui Qui Ci dovremmo stare No Ok Qua siamo entrati Perfetto E E Spingiamo fino a qua Vai Aprite il fronte Dovremo spingere anche qua Per non farli ritirare E non farli andare a difendere Vai spingere Vai spingere Vai spingere Inversiamo qualche uomo Anzitutto Anzitutto Immaginavo Dovremo aprirò Dovremo aprirci Aparecchio petrolio Produzione Ok E voi A questo punto Pushate qui Linea offensiva E facciamo una manovra E facciamo una manovra A tenaglia Qua sotto Vai Ottimo Ottimo L'Italia sta perdendo Parecchio terreno Poi prenderemo la Germania Qua E quindi queste divisioni Poi andranno Di rafforzo In questa zona Ok Costruzione L'abbiamo fatta Prendiamo Lei Ok Poi dovremmo fare Un'altra invasione navale Ok Il cromwell L'abbiamo ricercato E Io farei questa Subito No Continuo a produrre Quelli più Più piccoli In questo momento E tutti Questi Andate Eh Roma Non l'abbiamo ancora Presa Sicuramente Qua siamo un po' Più vicini E magari I fighter Tipo Voi vi mettete Qui E voi pure Ok Siamo un po' Più vicini Adesso Ok E anche questi Li abbiamo Tirati giù Eh l'Italia Ha messa Messa parecchio male C'ha i 35 divisioni Su questo fronte Ma se lo molli Vai giù Inoltre Inoltre abbiamo tolto Parecchia Eh parecchia Parecchie fabbriche Ci hanno questo fronte qua In Italia Diciamo Sul Lazio Ok Royal tank L'abbiamo sistemato Eh qua ci serve Ci serve Sono loro Non ci abbiamo Forse questo Vai E voi A questo punto Eh non ci avete più Una divisione Una linea Vera e propria Perché qua avete Conquistato tutto A questo punto Loro poi Li mandiamo In In Sardegna Spingete qua giù Ok Dovremmo aver Praticamente Terminato Anche qua Ok C'abbiamo una divisione Che è stata Bella Ah no Queste sono le mie Sì questa è la mia Ok Tu Poi anche Non mi pare Che ti posso Fare refit Vero Non mi sembra Ok abbiamo Quattro divisioni Di carri armati Sono usciti Ottimo Vale pure Pure la Grecia Sta vincendo Ah perché Certo c'ha C'ha tre divisioni Di qua Spostato tutto Al fronte Questa l'abbiamo Conquistato Quindi qua Ci mettiamo 24 divisioni Voi Partite da Napoli E Scendiamo a Cagliari Perfetto Perfetto Quindi qua Questo ormai È territorio Nostro Quindi Andrei Anche A questo punto Rimuoverei Quest'ordine Perché non c'è Più niente Su queste coste E mi servite voi Voi pusciate di qua Va E si stanno riprendendo Taranto E compagnia E non deve accadere Ok Possiamo fare lui E lo iniziamo a fare No Non lo iniziamo a fare Qua ne produciamo 12 al giorno Qua ne abbiamo parecchi Quindi Iniziamo così Non ci abbiamo Forse tu Me ne puoi dare una Ma va Zelanda Sono pochi Meglio di niente Va Ok E questi Li spingiamo Prima qua E poi Li facciamo fare L'invasione navale Adesso Qua ci abbiamo 1000 aeroplani Da poter piazzare Vai Spostiamo tutto Ok Qua abbiamo conquistato Quindi li possiamo Poi dare L'ordine di Oh E questi Ah Ok Questi hanno provato A sbarcare Non so Se andare a dare Una mano Alla Grecia 200 giorni Non c'ha senso Solo me no Solo me non c'ha senso Che sono tanti Però facciamolo Uno slot investiamolo Questo invece ha senso Dovremmo portare i carri qua Dovremmo portare i carri in Italia Ok Facciamo uscire l'ultimo E poi li portiamo in Italia Voi Non spingete più E difendete Solo una perdita Di Eh Infatti C'hanno C'hanno i carri No Dovremmo andare adesso Dovremmo andare ora Tu Puoi anche uscire Dovremmo andare ora Feedback Perché qua perdiamo terreno E in aria E in aria non vinciamo Dobbiamo spostare le nostre Le nostre truppe aeree Dove le possiamo mettere Mi servono più caccia Allora 200 qua 200 qua Eh Ce n'hanno troppi aerei Ce n'hanno 3000 Noi ce n'abbiamo soltanto 800 Quando riusciremo mai a pushare Senza i carri Come sono messi loro Ma le statistiche non sono ottime In mare ci siamo Il mare non ci preoccupa Il mare non ci preoccupa Per niente Potremmo però fare questo Potremmo fare questo Ok il Giappone ha dichiarato guerra Alle Filippine Chi ci sta giustificando Il Giappone Ci servite Ah grazie Ok Perfetto Ok sono arrivati gli Stati Uniti Eh lo so Forse loro diventeranno Gli possessori Ma È così Eh Purtroppo Non ci possiamo fare nulla Perché solo due Ah ok Allora Noi ce l'avevamo qua La tank Alleata Scottish No non c'era No non c'era Non mi ricordo se c'era una Tipo la tank division Non mi sto confondendo con gli americani Gli americani Ci avevano tipo le divisioni corazzate Si chiamano proprio tank division Quarta divisione corazzate E quant'altro Boh diamogli loro ma No sinceramente non mi ricordo Storicamente che cosa Che cosa sono Cino si Allora i tank ce li abbiamo Quindi questi tank Li potremmo Inserire Voi siete quasi pronti Questa non è più Africa Siete diventati La compagnia dell'est Facciamo questa E diventate Neri Ok E vi chiamate Italia E qui Uno Due Tre E quattro Le mettiamo qua E questi quattro Li mettiamo qui Che sono 25 Quindi me ne manca Devo togliere un altro Ok Facciamo Facciamo un cambio Ok qua ci siamo adesso Con i carri medi Quindi questi qua Diventano Diventano questi Ehm Non l'ho fatto L'SP tank Eccolo Avenger Ok E questi tank Ehm Dove siete i tank Qua Spingete verso Roma Vabbè qua c'è di tutto Ok Un macello di roba Ehm Non credo che Riescano a vincere Onestamente Contro Contro questa divisione Corazzata Però io di solito Le divisioni Corazzate Me ne mettevo Sempre su un altro Di Mannaggia Sempre su un altro Di solito le uso Che mi trovo meglio Gestirle Allora Facciamo così Si Ehm Voi potete partire Vedete qua Voi vi do Lui Che c'aveva 5 Poi c'ha pure Panzer division Se non sbaglio Però Ehm Facciamo prima Fare così Eh si Infatti Panzer leader experience Più 100% Si 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 Facciamo così E A questo punto Voi pushate qua E voi potete Tranquillamente partire Sperando di trovare Di trovare Successo Una volta che Li torniamo Roma Abbiamo dato un bel pezzo Scusate eh Eh Motivo Perché Non siete Tutti qua Fare quello Che vi ho detto Ok Mettiamo un attimino La speed a 3 Cerchiamo di arrivare qua Vai E In un momento Ti stanno difendendo Allora qua siamo riusciti A entrare Bella linea Fino a qua Vai Pushate Ma dovremo vincere Con rapidità In questo modo Se arriviamo qui Possiamo fare un altro sbarco E ritagliarli Da qua sopra Credete Questi mi stanno Massacrando Io non riesco A passare Me le bucano Le divisioni No Non me le bucano Eh tu Ancora non ci vai Qua Non capisco Per quale Viste La ragione Dovete recuperare Un po' L'exp Tornate qui Allora facciamola Diversa Facciamola Diversa Facciamola Diversa Facciamo una feedback E assegniamola qua Ok Ok Ci abbiamo veramente pochi uomini Potrebbe essere necessario Eh però qua perdo l'output Non c'ha senso Ma se americani arrivano Eccoli Perfetto Stanno arrivando Non è uno sbarco proprio uniforme Ma Ma comunque stanno arrivando gli americani Anche se Comunque diciamo che In Italia Ci stiamo pensando noi Quindi lui dovrebbe pensare A questo fronte Che stranamente sta reggendo parecchio Ma come sta messa la Francia Meglio di noi Ma è quasi un milione Ne abbiamo investito parecchio In queste guerre Eh qua non ci arriva più nulla Abbiamo bisogno di Di queste tecnologie Non so se inizierà a fare lui Sapete Forse si Iniziamo a fare lui Ok Quindi ora Voi cancellate Quest'ordine Andiamo qua Adesso che c'è un attimo Di calma E magari cerchiamo Di prenderli Roma Ci hanno una difesa Troppo alta I tedeschi Non li bughiamo C'è pure river crossing Non ci conviene Entrare da qua Ci conviene Entrare da qua Eh però Ma sono arrivati gli americani Eh 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 Che divisione state portando Speriamo qualcosa di buono Allora Il forte l'abbiamo fatto E Dovremmo iniziare a costruire Queste Per l'acciaio 36 20 61 Ok Così ci siamo Poi mi piacerebbe Anche Potenziare In Etiopia Non abbiamo grandi risorse Tu ce ne hai 12 Un po' pochino Devo potenziare lui Ma Ne diamo una Giusto per Vai Ok Qua Possiamo Ricercare lui Anche se Con tutta sta roba Che stiamo facendo Adesso Non c'ha tanto senso Mentre questa La potremmo fare L'abbiamo potuta fare Da un pezzo Va bene ragazzi Io chiuderei Quale episodio Abbiamo fatto tanto Siamo entrati in Italia Quindi speriamo che adesso Gli Stati Uniti Insomma Si facciano sentire Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Commentate per qualsiasi Subito per Posità o semplice Curiosità Noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao a tutti